Modello di cooperazione tra Italia e Egitto per giovani universitari del Cairo. Allora sentiamo il corrispondente Mark Inaro. La cosa più importante che ho appreso è di pensare sempre con la mia testa e di avere fiducia nelle mie capacità. E' straripante la felicità dei 50 ragazzi e ragazze egiziani che ricevono il diploma di laurea in Ingegneria Informatica, consegnato al Cairo dal rettore di Uninet1, il network per l'università ovunque. Un modello nato e sviluppato in Italia e che consente grazie ad internet e al canale tv satellitare Rai Nett1 di ricevere e produrre contenuti educativi senza doversi spostare. Siete in fondo i primi laureati del mondo arabo a distanza attraverso televisione e internet che hanno un titolo di studio riconosciuto in Egitto, in Italia, in Europa. Un modello di cooperazione di cui l'Italia deve andare fiera, dice il ministro dell'università Mustafa Mossad, esponente dei fratelli musulmani, il quale addirittura auspica che nasca al più presto in Egitto la prima università italiana. Studiando direttamente nelle loro case o nelle università dove si creano i poli tecnologici di cooperazione con noi, questi studenti possono acquisire un titolo di studio, ma non soltanto, possono avere quelle competenze necessarie per vivere in un mondo del lavoro globale, ma anche per riuscire a fare un'emigrazione non più disperata. Pensi, ci dice Ahmed, che in 48 su 50 abbiamo già trovato un lavoro qui in Egitto.